Eccoci qua, ben trovati, ben trovati a tutti quanti voi, Sandulli, non ne volevo parlare più di Sandulli, vi ricordate come ho detto in altre circostanze, ma la cronaca ci porta a parlare di Sandulli, perché come sapete io questo ce l'ho sulle palle, ma in maniera molto molto particolare, adesso vi spiego il motivo perché io ho sulle palle questo Sandulli e comunque ha fatto una cosa molto particolare di cui vorrei parlare, però prima di entrare nel vivo dell'argomento voglio ricordarvi che a Juventibus mi hanno definito uno che delira, i deliri di vessicchio, certo perché io non so cazzeggiare come loro, che dalla Juventus prendono solo profitti, quindi io non so cazzeggiare, i miei sono deliri, no, se tutti delirassero come me fossero tutti i tifosi della Juventus, probabilmente loro sono i pseudo intellettuali della Juventus e sono la rovina della Juventus, quella gente è la rovina della Juventus, quelli che vanno in quella chat scrivono e stanno a sentire, io devo dire la verità, Juventibus me lo vedo quando posso, perché comunque là ci sono ospiti di un certo livello, che poi non li fanno parlare, non li fanno parlare, ma ci sono tanti altri che proprio vanno a cazzeggiare, vanno a perdere tempo, uno di Radio Radicalna, di chi sa quale radio, Gentarella, proprio gente di bassissimo profilo intellettuale, poi c'è qualche giurista ogni tanto che la cosa la porta avanti con, devo dire, con serietà e con professionalità. Intanto io vi dico apertamente che la presidenza Agnelli non l'ha getto alle ortiche, per me Agnelli rimane il più grande presidente della storia della Juventus, Andrea Agnelli, con 19 titoli vinti e fra l'altro con una exit strategy molto molto particolare, in una nazione come quella italiana dove regna uno squallido panorama, c'è un odio, un'invidia nei confronti della Juventus che valica ogni limite, è l'azione di Andrea Agnelli, è l'attesa a valicare il limite di questo campionato condominiale, quello di Serie A. fra l'altro devo dire che Agnelli qualche errore lo ha fatto, ma tanto è vero che quando ha fatto gli errori la Juventus non ha vinto e questo la dice lunga sull'importanza del suo operato in precedenza perché aveva operato bene e vinceva. Per cui andare ora a gettare l'acqua con tutto il bambino mi sembra particolarmente vergognoso e alquanto distruttivo, oltre che irriconoscente. Dalle mie parti la riconoscenza è un valore, un valore enorme, non può venire una geniaca noia di Borgata o il Sandulli di giornata a potermi cancellare quello che Andrea Agnelli mi ha dato personalmente e credo abbia dato a tutti quanti. Veniamo a parlare della questione Sandulli ricordando che due campioni del mondo, Cannavaro e De Rossi, sono stati, Cannavaro l'altro giorno, De Rossi poche ore fa, sono stati esonerati da panchina di Serie B, Benevento e Spal, il luogo del quale è andato un altro campione del mondo a Ferrara e cioè Oddo al posto di De Rossi. Questo giusto per dare qualche informazione anche di carattere generale, anche se lo so, ve ne fotte niente, però ogni tanto diamo qualche notizia anche sotto questo aspetto. parliamo di Sandulli, Piero Sandulli, colui che è passato alla storia per aver dichiarato che la Juventus non aveva commesso reati ma che è stata retrocessa nel 2006, lui era il Presidente della Corte federale per l'odio popolare, per il sentimento popolare, cioè la Juventus è stata retrocessa da coloro che sono stati battuti sul campo. E questo Sandulli quando ha fatto quella dichiarazione doveva chiudersi in un cesso e tirare lo scarico perché è stata una cosa così grave, è così grave all'epoca. Io ricordo bene quando Sandulli fece questa dichiarazione che poi è stata una dichiarazione che ha fatto epoca. Perché nel momento in cui tu vuoi giustificare un'azione indegna, quale è stata la retrocessione della Juventus, adducendo che c'è un sentimento popolare, sei un maledetto, sei una vergogna, sei uno squallido, sei un imbecille. Questa poi è la verità. Quindi dopo questa dichiarazione non si doveva dimettere soltanto, si chiudeva nel gabinetto, andava nel cesso e tirava lo scarico e se ne scendeva. Perché francamente sentire ancora questo Sandulli è... l'altro giorno io l'ho detto non mi nominate più Sandulli, perché so io quanto ce l'ho sulle palle a Sandulli, ma ce l'ho sulle palle proprio in una maniera pesantissima. Quella è una dichiarazione che non mi sono mai scesa. È una dichiarazione sulla quale per esempio Zampini ha fatto carriera. Perché ci ha scritto dei libri, ci ha creato una prosa, ci ha creato una sua filosofia. Buon per lui. Io invece mi si è gonfiato il fegato. Questa poi è la differenza tra noi. Quindi ora si parla di Sandulli. Cioè voi pensavate che io venivo qua a dire chi è Sandulli, cosa ha fatto nella vita, che organismo ha preseduto. Non me ne fotte proprio. So soltanto che è uno squallido personaggio napoletano infiltrato negli organismi federali. Prima nel FIGC, poi nel CONI. Cioè ha fatto carriera forse. Che sono organismi che per me non valgono un cazzo. Sono nefandezze dello sport italiano. Definirlo sport ormai Malagò lo dovrebbe sapere perché ha attaccato ultimamente tutti i presidenti di Serie A. Io lo definisco lo sporco, altro che lo sport. E oggi era il vicepresidente della seconda commissione, del secondo collegio di garanzia. Cioè quello che doveva guardare il ricorso della Juventus. E secondo me lì non dovrebbe proprio arrivare. Ve l'ho detto in precedenza. Vanno a fare raccolte firme. Vanno a fare azioni. Perché il Consiglio Superiore della Magistratura deve togliere di mezzo Gennacarogna, Ciro Sandoriello, deve togliere di mezzo il Consiglio Federale a Gravino. Quindi vanno spedite anche a Gravino. Cioè quella è una sentenza che muove i passi su una irregolarità di fondo. Come dice anche Bava, lo avevamo detto tempo fa, tempo fa lo avevamo detto tre o quattro giorni fa. Pensate un po'. Se ne è accorto anche Avzim Out che Bava ha ragione. E' che la sentenza andrebbe annullata, rispedita al mittende. Ma non lo faranno, statene certi. Come nessuno ha preso in considerazione la sentenza del GIP, il giudice per le indagini preliminari, che ha bocciato tutto l'operato di Gennacarogna e Santoniello, Bentoni e Gianoglio, gli altri due compagni di merenda dell'assoluzione per delinquere che ha mosso l'inchiesta Prisma. Perché quella è un'azione a delinquere. Non è un'inchiesta. Perché in quel processo sono pronto a scommettere. La Juventus e tutti i suoi ex dirigenti, per me sono sempre i dirigenti, saranno tutti assolti. Tutti. L'importante era mandare a Chinè, tifoso dell'Inter, attenzione, ditelo, scrivetelo dappertutto che è tifoso dell'Inter, perché Zazzaroni va smentito, visto che Zampini non sa un cazzo, non lo sa difendere. Non sa difendere la Juventus. E fa dire parole a Vanvera, a Zazzaroni. Quella macchietta, quella marchetta nazionale. E allora, in pratica, il discorso va chiuso. Non dovrebbe arrivare al collegio di garanzia quella sentenza, perché è una sentenza fatta su un'irregolarità, sull'odio. La Consob non ha mai mosso i diritti penali alla Juventus, ha mosso i diritti formali, come ha fatto ogni anno. I diritti formali sono stati aggiustati e sono stati rimandati, come si fa in tutti i bilanci, sui comuni, nelle aziende, dappertutto. In quelle quotate in porsa è la Consob che verifica che controlla, come è giusto che sia. E allora Sandulli, e torniamo a Sandulli, personaggio di grandissima incoerenza, di dubbie qualità intellettuali e morali, per quello che ha detto nel 2006, e che poco fa vi ho riferito, aveva fatto questa intervista. Ma la mia preoccupazione, sapete qual è? La preoccupazione è che lui ha voluto far saltare il banco, perché si è accorto anche lui della inadeguatezza della sentenza. Tanto è vero che ha detto i punti non sono motivati, non sono giustificati. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, chiaramente, che anche Sandulli si è accorto della invalidità della sentenza che la Corte Federale ha licenziato il 20 gennaio. e questo è molto grave. Molto grave perché invece di aspettare, giudicando in questo modo, l'ha resa nota questa vicenda. E perché l'ha resa nota? Questo è il dubbio che mi affligge e al quale io non so dare una risposta. Me lo sono fatto subito quel dubbio quando feci l'intervista a Tutto Sport. E perché accetto di parlare a Tutto Sport? Tutto Sporco. perché accetta di parlare quando ti viene a dire che è una sentenza che non può essere accettata? Perché in quella circostanza lui fa una prima parte dove dice che la sentenza è scritta bene, fatta bene e poi a un certo punto dice che i 15 punti non sono stati motivati. Cosa che fra l'altro tutti quanti, tutti i giuristi nazionali avevano già dunque fatto rilevare. oltre a quelli che ha fatto rilevare Bava, oltre a quelli che ha fatto rilevare il collegio difensivo della Juventus a proposito della tempistica. Cioè questa è una sentenza che fa acqua da tutte le parti. i giudici della Corte federale non andrebbero ricusati oppure messi da parte, andrebbero messe sotto inchiesta. Perché ancora una volta, ve lo sto dicendo da quando è stata licenziata questa sentenza, hanno barato, hanno imbrogliato. E poi io mi chiedo come si fa le plusvarenze se non sono un un'artifizio illegale dove il ricorso dell'articolo 4 alla sedealtà. Se la plusvarenza è consentita e non presenta motivi di illegalità non può esserci la scorrettezza delle azioni. Quindi non può configurarsi l'articolo 4 richiamato per i dirigenti ma già invocato dal primo momento da Kiné, tifoso dell'Inter, colui che avviò i passaporti falsi di Recoba con la patente alla motorizzazione di Latina. Cioè praticamente Kiné aveva diciamo come viene il termine contestato anche l'articolo 4 ai dirigenti non alla Juventus che però viene raggiunta attraverso l'articolo 6 la responsabilità diretta da parte dei dirigenti. Ecco perché sono arrivati poi alla ai 15 punti di penalizzazione ma non potevano arrivarci. Questo filotto di articoli è bloccato dalla mancanza di srealtà e se c'è stata srealtà e non è stata per le plusvalenze ma per i comportamenti come dice poi Chiacchio la Juventus non può essere più giudicata cioè non è che vai a prendere il filone degli stipendi e ancora srealtà e no srealtà è tutto l'architrave della dell'accusa questo pseudo disegno criminoso di cui parla Chinè e raccolto poi dalla Corte Federale cioè non è che qui siamo tanto stupidi da non capire noi le cose ce le reggiamo pure e ci arriviamo anche per cui Sandulli si è accorto chiaramente della stortura di questa di questa questa sentenza ripeto fa acqua da ogni parte andrebbe rispedita a calci nel sedere a coloro che l'hanno che l'hanno maturata e scritta però come allora hanno deciso che la Juve deve essere condannata e nonostante queste storture vedrete che i 15 punti non saranno tolti da Juventus non li potevano già dare gli ho spiegato le motivazioni e se li hanno dati non possono ridarli lo dice l'avvocato del Napoli chiacchio che nella fattispecie ha difeso il Novara perché c'è il principio di continuità per cui non può essere una squadra o un soggetto essere condannato per gli stessi motivi cioè con i 15 punti penalizzazioni vengono condannati gli atteggiamenti i comportamenti sleali come dice continuati come dicono loro e allora se va alla manovra stipendi che rientra in quei comportamenti la manovra stipendi poi parleremo successivamente in un altro video che farò dopo quindi questa situazione è particolarmente strana è particolarmente dubbiosa scivolosa in un terreno argilloso sul quale la federazione e tutto lo sport italiano sta avviandoci è molto è molto molto scivolosa presenta crepe io dico presenta falsità presenta calugne presenta diffamazioni verso la Juventus e dal principio da quando Genia Carogna Santoriello ha cominciato ad aprire cioè uno che in dieci anni ha messo tre volte sotto inchiesta la Juventus ma che scherziamo cioè come fa il tribunale di Torino o il procuratore capo della Repubblica di Torino ad affidare un'inchiesta ad un personaggio come quello come Ciro Santoriello aliasa Carogna come? come fa ad affidargli una un'inchiesta in che modo? perché? visti i suoi precedenti vista la sua mancanza di serenità vista la sua mancanza di serietà vista la sua inadeguatezza intellettuale è psicologica non può Santoriello a Carogna continuare non è che non si presenta e ci sono gli altri due quegli altri due sono due dei complici perché non hanno parlato perché Giannoglio e Bentoni non hanno detto vicino a Santoriello vedi che tu non puoi giudicare la Juventus perché hai un preconcetto ben costituito nella tua mente che è demoniaca non è serena non è terza è una mente è un'attività interessata sei interessato Bentoni e Giannoglio non gliel'hanno detto questo perché non gliel'hanno detto e allora nemmeno loro possono far parte più del collegio di accusa nel processo prisma che secondo me non ha nessun piano di legittimità nessuno è inutile che ci giriamo intorno quindi dovrebbero il Consiglio Superiore della Magistratura gli organi che controllano verificare tutto questo hanno messo su una vergogna come fecero nel 2006 solo che questa volta i tifosi e non solo si sono messi in moto hanno fatto venire fuori le vergogne hanno fatto venire fuori lo schifo che c'è negli organismi calcistici e dello sport la schiuma la merda che c'è all'interno di questi organismi sono venuti fuori stanno venendo fuori perché i social non dimenticano non nascondono più non dimenticano e allora questi delinquenti che scrivono contro la Juventus e poi pretendono di giudicarla e no va rimesso tutto sul binario della serietà il CONI deve respingere o meglio non la deve proprio accettare la sentenza della Corte Federale chi ne va posto sotto processo la Corte Federale va posta sotto processo Genia Carogna Sandrile va querelato denunciato e mandato sotto processo questi hanno fatto un'azione indegna e vi dico sempre purtroppo le stesse cose non capisco quale sia stata l'azione di di Sandulli perché Sandulli ha messo fuori queste dichiarazioni sono dichiarazioni pesanti Sandulli ha detto che la sentenza non può essere accettata perché non è motivata nella penalizzazione cioè lui che deve giudicare il Cognani ha preso le distanze ha anticipato una sentenza praticamente l'ha resa nota voleva fare un piacere alla Juventus mi viene da dire di sì voleva inficiare tutto voleva lanciare qualche messaggio in codice per andare contro la Juventus vi dico di sì perché l'ha fatto quali sono i motivi questo è il dubbio che ora abbiamo ed è questo l'interrogativo che vi forniamo grazie per avermi seguito se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale se no soprassedete se ritenete ancora opportuno dire la vostra fatelo pure sempre in maniera molto civile mantenendovi in quello che è l'argomento grazie a tutti quanti voi per avermi seguito alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti